Decine di tonnellate di rottami di ferro, fusti metallici, materiali di lizzo di risulta sono accatastati sul fondale marino a ridosso della raffineria di Gela per tutti i tre chilometri di lunghezza del pontile che con la diga forania compone il porto isola dell'ex petrolchimico Eni. Lo hanno scoperto gli uomini della squadra di polizia giudiziaria della Guardia Costiera Gelese ed il nucleo operatori subacquei del corpo delle capiterie di Porto nel corso di un'inchiesta che ha preso a campione gli ultimi dieci anni di attività dello stabilimento. A conclusione dell'indagine la procura retta da Fernando Asalo ha chiesto al gruppo di Gela il rinvio a giudizio della società raffineria di Gela S.P.A. e di cinque suoi dirigenti tra amministratori delegati e responsabili della struttura operativa integrata di logistica mare chiamati a rispondere di inquinamento ambientale e di gestione illegale di rifiuti nell'area dello stabilimento gelese. L'azienda dell'Eni invece è ritenuta responsabile di illeciti amministrativi dipendenti dal reato. Per alcune imprese che eseguivano i lavori di manutenzione delle pipeline per l'imbarco e lo sbarco di prodotti petroliferi il mare sarebbe diventato una immensa discarica abusiva da autorizzare con rilevanti risparmi dei costi di smaltimento dei rifiuti speciali. Ci sono tratti di mare, dice la Guardia Costiera, dove su dieci metri di fondale abbiamo scoperto cumuli di ferraglia e rifiuti ancora da classificare dell'altezza di cinque metri. Per poter eliminare tutto questo materiale occorreranno anni e anni di lavoro. Le indagini della Guardia Costiera sono state corredate di videoregistrazioni subacquee che danno l'esatta dimensione della portata dell'inquinamento. Tubi per ponteggi abbandonati, pezzi di impalcature, tratti di vecchie tubazioni dismesse, fusti metallici contenenti materiale solido ancora da definire e rifiuti di vario genere. La notizia è stata sorpresa e stupore tra i dirigenti sindacali di fabbrica. A Gela, dove faticosamente si sta uscendo da una difficile crisi produttiva ed occupazionale, si è aperto un acceso di dibattito attraverso i social network. C'è chi esprime il timore che dopo la petrolchimica possa chiudere anche la riconvertita green refinery prima ancora che entri in funzione e chi sostiene che la presenza di tubi e ponteggi sia un fatto positivo perché potrebbe avere favorito il ripopolamento ittico del mare di Gela, notoriamente povero di pesci.